Mercoledì santo Vorrei, Signore, raccogliere le briciole della Tua mensa. Oggi, Signore, voglio contemplarti, mentre, seduto alla mensa, permettevi che qualcuno si sedesse ai Tuoi piedi, che li baciasse, li lavasse con le proprie lacrime, li asciugasse e li profumasse. E Tu difendevi e proteggevi dagli sguardi maligni chi si avvicinava a Te, stare ai Tuoi piedi e raccogliere le briciole che cadono dalla Tua mensa e volontà di ricerca, di grande fedeltà e di grande comunione con Te. Attenzione, non ci sono avanzi da gettare nella casa del Signore. Egli è il restauratore. Egli è colui che fa nuove tutte le cose. Nulla e nessuno va perduto di quello che Egli avvicina. Tutte le cose, tutti gli uomini, occupano un posto privilegiato nella sua casa. Ogni uomo è prezioso davanti agli occhi di Dio. Egli li difende, li protegge, come la pupilla dei Suoi occhi. Vorrei, Signore, raccogliere le briciole, perché sono convinto che non saprei raccogliere il Tuo pane. Chi può raccogliere la Tua immensità? Chi può abbracciarti e comprenderti e possederti? Chi mai potrebbe essere come Tu sei? Quando dico anch'io che vorrei conformarmi a Te, sento, Signore, che la mia forma rimarrebbe sempre piccola e povera, così come la mia natura e come sono i miei sentimenti. Le briciole, invece, mi si addicono nella piccolezza e nella povertà di tutto il mio essere. Voglio raccogliere soltanto le Tue briciole, perché non vorrei cedere alla tentazione di nutrirmi ad un'altra mensa o di entrare in altre case. Anche i cagnolini, Signore, si cibano delle briciole che cadono dalla mensa dei padroni, ed io ho fame di Te, delle Tue briciole. Segniamoci con un segno di croce, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera per il Mercoledì Santo Mi è capitato di pensare a Giuda. Venti secoli di arte e letteratura cristiana si sono interrogati al suo riguardo. Indubbiamente il peccato di Giuda è il più grande tradimento, ma forse i Vangeli, più in profondità, ci dicono anche qualcosa d'altro, qualcosa peraltro, di più vicino a me e al mio peccato. Anche Pietro ha tradito Gesù. Ma lo chiamiamo Santo, forse, proprio perché ha pianto amaramente e non ha disperato. Giuda, invece, ha disperato del perdono, si è suicidato, non dando a se stesso né a Dio nessun'altra possibilità. Allora, forse, il peccato di Giuda, il più grave, non è l'essere caduto e il non avere creduto che veniva data, anche a lui, la possibilità di rialzarsi. Se è così, capisco Giuda e il suo peccato molto meglio e sento la sua intenzione molto più vicina a me. Fammi sempre sentire, Signore, che non c'è fallimento mio che Tu non possa gestire. Oggi ti ho incontrato, ma ho cambiato strada, perché avevo fretta. Ho sentito che avevi bisogno, ma mi sono voltato dall'altra parte per paura. Ho visto i Tuoi occhi tristi, ma ho deviato lo sguardo per pigrizia. Ogni giorno ti tradiamo, Signore, e Tu soffri per noi. Ti preghiamo, perdonaci, e rendi i nostri cuori capaci di sfruttare le infinite seconde possibilità che ci offri nel Tuo immenso amore, affinché sappiamo amarti ed esserti amici, cominciando ad amare il fratello accanto a noi. Amen. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Dio clemente, che manifesti la Tua onnipotenza e la Tua bontà, abbi pietà di noi. O Dio, che sapientemente aspetti il peccatore, abbi pietà di noi. O Dio, che affettuosamente lo inviti a pentirsi, abbi pietà di noi. O Dio, che tanto gioisci del suo ritorno a Te, abbi pietà di noi. Di ogni peccato mi pento di cuore, o mio Dio. Di ogni peccato in pensieri e parole, mi pento di cuore, o mio Dio. Di ogni peccato, in opere ed omissioni, mi pento di cuore, o mio Dio. Di ogni peccato, commesso contro la carità, mi pento di tutto cuore, o mio Dio. Per ogni rancore nascosto nel mio cuore, mi pento di tutto cuore, o mio Dio. Per non aver accolto il povero, mi pento di tutto cuore, o mio Dio. Per non aver visitato l'ammalato e il bisognoso, mi pento di tutto cuore, o mio Dio. Per non aver cercato la Tua volontà, mi pento di tutto cuore, o mio Dio. Per non aver perdonato volentieri, mi pento di tutto cuore, o mio Dio. Per ogni forma di orgoglio e di vanità, mi pento di tutto cuore, o mio Dio. Della mia prepotenza e di ogni forma di violenza, mi pento di tutto cuore, o mio Dio. D'aver dimenticato il Tuo amore per me, mi pento di tutto cuore, o mio Dio. Di avere offeso il Tuo amore infinito, mi pento di tutto cuore, o mio Dio. Perché ho ceduto alla menzogna e all'ingiustizia, mi pento di tutto cuore, o mio Dio. O Padre, guarda il Tuo figlio morto in croce per me, e in Lui, con Lui e per Lui, che Ti presento il mio cuore, pentito di averti offeso e pieno di ardente desiderio di amarti, di meglio servirti, di fuggire il peccato e di evitarne tutte le occasioni. Non rigettare un cuore contrito e umiliato. E io spero, con viva fiducia, di essere esaudito. Preghiamo. Manda su di noi, Signore, il Tuo Santo Spirito, che purifichi con la penitenza i nostri cuori e ci trasformi in sacrificio a Te gradito. Nella gioia di una vita nuova, loderemo sempre il Tuo nome santo e misericordioso. Per Cristo, nostro Signore. Amen. Che Dio ci benedica, faccia risplendere il Suo volto su di noi e ci dia la pace. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie. 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 Grazie.